Vediamo il prossimo servizio e passiamo agli spettacoli ma anche a solidarietà insieme. Splendido progetto musicale, sostegno della lotta contro i tumori, partendo proprio dalla tragica esperienza di un giovane artista. Si avvare fra gli altri della collaborazione di Ulse 3, Serenissima e dello Iof. Perché il dramma del singolo possa essere risparmiato alla comunità. Il dramma è la morte per tumore di Gianluca Ciani Pistolato, batterista appassionatissimo di musica, che ci ha salutato a soli 44 anni e nel cui nome è nata una tre giorni, denominata Ciani Live Aid, che si terrà nell'edizione 2022 dal 2 al 4 settembre prossimi agli impianti sportivi di Zelarino, terraferma veneziana. La manifestazione con musica, gastronomia ma anche momenti di riflessione e conoscenza come due convegni dedicati a prevenzione ed alimentazione presentata al municipio di Mestre, ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca oncologica, in particolare per le associazioni impegnate nella cura ed assistenza dei malati. Coinvolte nel progetto l'associazione Ciani Forever, l'USL 3 Serenissima, lo Iob, cioè l'Istituto Oncologico Veneto, e Avapo, associazione che si occupa di assistenza a domicilio. Grazie alla prima edizione della rassegna è stato addirittura acquistato un furgone medico, mentre quest'anno i proventi, con tra gli altri il contributo della società Reier Basket, andranno al servizio cure palliative dell'USL 3 Serenissima, che segue i pazienti più gravi. Gli obiettivi sono importanti, acquistare un apparecchio per ecografie a domicilio e far partire un servizio di assistenza domiciliare con videochiamate quotidiane tra paziente e medico. Tre serate ad ingresso libero, protagoniste cover band di grandi gruppi rock e la presenza di un virtuoso della chitarra come Andrea Braido, che ha suonato con tutti i big della musica italiana. La raccolta fondi ha già preso il via nel sito cianiliveaid.com. L'obiettivo non è tanto quello di festeggiare solo Ciani, perché ognuno di noi ha il proprio Ciani, il proprio familiare, il proprio collega di lavoro o amico che ha trascorso purtroppo un periodo difficile con problemi oncologici. Quello che dobbiamo dire è che sarà veramente un weekend all'insegna della festa e dello star bene per raccogliere fondi per la ricerca, ma soprattutto per migliorare la vita dei pazienti oncologici. Abbiamo assieme all'ASL, che è il nostro patrocinante, e assieme allo Iove, a Avapo, dei progetti veramente ambiziosi di trasformare quello che sarà il raccolto che noi faremo in questi tre giorni in servizi migliori per i pazienti oncologici.